Un concerto omaggio ai Beatles in occasione dei 60 anni dell'uscita del loro primo album, palcoscenico d'eccezione, La Fortezza Medicea. Si tratta di uno degli appuntamenti nell'ambito del settantesimo concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo. Mentre li scrivevo, perché mi hanno dato questo incarico, ho scritto arrangiamenti per tutti e per tutti e per tutte le canzoni, ma questi Beatles non mi era mai capitato di doverle arrangiare. E allora ho pensato, vabbè sono canzoncine, sono facili, sono canzoncine. Poi mentre stavo lì e sentivo il pezzo e quindi le scrivevo, dicevo ma aspetta, questo è in sette quarti. Aspetta, no, aspetta. Ma come si scrive? Aspetta. Ma è molto difficile la musica dei Beatles, per vari motivi. Spazio poi al Festival Internazionale di Canto Popolare, che giunto all'edizione numero 37, è stato ospitato per la prima volta in Fortezza. Qui si sono sfidati tre cori, uno proveniente dalla Spagna, un altro da Israele, ed infine uno dalla vicina, Fogliano della Chiana. Se tu sapessi il bene che ti voglio, faresti un fuocolino in mezzo al mare, faresti il gioco dove ti voglio, da quale più mi faresti fermare. Fogliano di Canto Popolare,